Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Alessandra e oggi parliamo di una trilogia che mi ha veramente sconvolto e mi ha lasciato senza parole. Prima prima prima, aspettate, piccolo preambolo solito. Vi invito ad iscrivervi al canale, di lasciare un like e un commento a fine video se vi è piaciuto. Vi invito anche di andare a tutti i link che lascio in descrizione per vedere e seguirmi se vi va sui vari social, visto che ne ho 3000 praticamente. E allo stesso tempo, se vi va, ovviamente, se vi va di sostenere il mio canale e anche tutte le altre piattaforme che uso per portarvi le recensioni, foto e quant'altro, mi farebbe piacere anche un piccolo caffè simbolico che trovate sempre il link comunque sia in descrizione. Ora, bene, iniziamo subito perché di cose da dire ne ho tante e sarà spoiler free. L'unica cosa, almeno questo, l'altro video no, vi ricordo che vi è aperto, ecco, però una cosa, una piccola premessa. Alla fine del video io vorrei tantissimo parlare anche poi della serie tv. Sì, perché io sto parlando di Shadow and Bones, tutta la trilogia di Tenebre e ossa. Bene, io l'ho letto in un formato in inglese perché in Italia costa un botto. In Italia costa tantissimo, sapevo perfettamente che non avrei mai potuto acquistarlo in tempo, diciamo, per leggerlo. Quindi io prima mi sono vista la serie tv e poi ho deciso di acquistare i libri. E visto che sono anche una lettrice in lingua inglese, ho detto, beh, proviamo. Prima ho chiesto aiuto a chiunque praticamente che l'avesse letto in lingua e poi ho acquistato il cofanetto. E mi sono risparmiata, raga, veramente un sacco di soldi. Ma oltre questo... Questo è il primo, il secondo e il terzo. Cioè già soltanto per questo io vi consiglierei di acquistarlo, per la bellezza comunque sia delle copertine. Lo so che in italiano è tutt'altra storia, le copertine anche sono bellissime, c'è qui tutto colorato e quant'altro. Però meritano anche in lingua. Cioè proprio vederli tutti insieme a me ha reso sempre felice. Quindi iniziamo subito, partiamo come sempre con una piccola trama e poi vi dirò cosa ne penso, cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto. E poi alla fine faremo un piccolo escursus sulla serie tv, se ve la consiglio di prima di leggere i libri, dopo di leggere i libri o non leggete i libri affatto e vedetevi la serie tv. Ecco, iniziamo subito. Allora, la nostra protagonista si chiama Alina Starco. Alina è un'orfana, come anche Mal, il nostro secondo protagonista, il nostro secondo personaggio. Sono entrambi orfani, hanno sempre vissuto dentro l'orfanotrofio e perché la faglia, ovvero questa nuvola nera, questa grandissima oscurità, ecco, con all'interno tantissimi mostri, quando è stata creata, ha uccisi i loro genitori. Perfetto. Allora, crescono, diventano grandi, Mal diventa un soldato, mentre Alina diventa una cartografa. Quindi, diciamo che, tutto sommato, continuano a vivere la loro vita assieme perché sono dei migliori amici e quindi continuano la loro vita. Fin quando, un giorno, devono necessariamente salire su una barca, o meglio, Mal deve salire su una barca, attraversare la faglia, per andare a prendere delle provviste. Invece, Alina decide di bruciare la mappa per far sì che salisse una cartografa sopra la barca, in modo tale da non lasciare Mal da solo. Perché, giustamente, tu lo vedi come un imbecille, Mal, però va bene, d'accordo, questo ci arriveremo dopo. E quindi, alla fine, riesce a salire sulla barca, su questa nave, sopra anche di Grisha. I Grisha sono dei, non posso definire gli stregoni perché loro anche dicono, no, non siamo streghe, non siamo maghi, siamo della piccola scienza. Ecco, loro cercano in tutti i modi, diciamo, di ampliare, amplificare tutto quello che hanno intorno a loro. Per, appunto, far nascere i loro poteri. Ci sono altri tipi, appunto, di Grisha, perché poi ci sono i materiali, i... Cioè, c'erano un sacco, non li ricordo tutti, dovevo segnarmi li, caspita. Però, comunque, tanto poi ve li lascio qui, nel caso se mi ricordo, se non trovate, commentateli, così poi ve li scrivo. E niente, quindi, di conseguenza, sono dei militari, diciamo, di elite, che possiedono questi poteri, ecco. E fanno di solito un test, quando si è piccoli, per valutare se si è un Grisha o meno, a cui si sono sottoposti anche male Alina. Soltanto che poi, diciamo che, quando sono sulla nave, succede il finimondo. Perché? Perché Alina ha i superpoteri. Alina brilla, come Edward Cullen. No, vabbè, è più bello di Edward Cullen, il modo in cui brilla Alina. Però, diciamo, è questo. E quindi, da qui in poi, troveremo un sacco di personaggi e incontreremo il Darkling. Darkling. Mi emoziono soltanto a parlarne. Perché? Perché è un personaggio complesso, difficile, fantastico. Cioè, lo so che di solito non ci si deve innamorare dei bad boy all'interno di un libro, però in questo caso ho fatto il tifo per il Darkling, ammetto. Quindi, questa è un po' la trama che trovate nel primo libro. Andiamo avanti, diciamo, con quello che ne penso. Se leggerlo, se non leggerlo e quant'altro. Sono emozionata a parlare di questi libri perché vi sono piaciuti un sacco. Allora, partiamo subito col botto. A me è piaciuto un sacco il modo di scrivere della Bardugo. Soprattutto nel primo libro. Nel primo libro c'è un... Conosciamo il mondo, ecco. Oltre al fatto della mappa, che la mappa già di per sé è fantastica. Guardate che meraviglia. E già la amo, così come se niente fosse. Ecco, già dalla mappa io lo amo, qui seri proprio ad occhi chiusi. Poi tutto il resto mi è piaciuto un sacco. La storia si evolve abbastanza bene, tutto tranquillo. Le descrizioni non sono troppo esagerate, anzi sono ben ponderate e piacevoli. Quando si continua la lettura, insomma, pian piano si viene catapultati. Non più in una... Diciamo che si cambia completamente ambiente. Prima un po' più rude, un po' più agricolo, no? Qualcosa di più rurale. Poi qualcosa invece come il piccolo palazzo. Qualcosa di più sfarzoso, qualcosa di più bello. Le divise, tutte particolari. Insomma, nella cura e nel dettaglio che c'è all'interno dei romanzi è pazzesca. Cioè, è una delle cose che amo maggiormente. Perché leggere ogni cosa e anche il modo in cui usano la piccola magia, la piccola magia, la piccola scienza, a me è piaciuto un sacco. Mi è piaciuto tantissimo. Perché proprio lo percepivo, lo vedevo davanti agli occhi, quello che stava succedendo. È una cosa che mi capita raramente. Però lo stile della Bardugo a me, insomma, ha colpito e ha colpito. Quindi il primo libro, diciamo, che si conclude abbastanza... Oh mamma! Avevo perso un post-it, raga. Fantastico, il bello della diretta è questo. Quindi l'inizio e la fine mi piace un sacco. che si chiamano Before e After, vabbè, prima e dopo. Perché? Perché parlano anche in terza persona. Parlano in terza persona nel modo in cui poi vengono presentati i personaggi. Come se ci fosse un narratore esterno alla vicenda che sta raccontando quello che sta succedendo. Quindi anche questo a me è piaciuto tantissimo, insomma. Già dal primo libro, comunque sia, si vanno a sviluppare determinati momenti di suspense impressionanti che mi sono piaciuti veramente tantissimo. Ci sono stati dei momenti in cui non riuscivo a staccare gli occhi dal libro e dovevo fare altro, però allo stesso tempo non volevo. E quindi me lo portavo appresso così per leggerlo. Mi trovavate in questo modo. I dialoghi sono una cosa ben strutturata. Mi sono piaciuti davvero tanto. Ogni primo libro è stra-approvato. Il secondo invece, ovvero Psychic Storm, è una rottura di scatole, ammettiamolo. Se non ci fosse stato Nicolai, il libro sarebbe stato da buttare. Nicolai è stato un personaggio fondamentale sia in questo libro, sia nel prossimo. Però se non ci fosse stato lui a tirare le fila della situazione, penso che avrei gettato la spugna, ecco. Perché, ok, volevo sapere come andava a finire tutto quanto, però anche meno. Diciamo che è stato più che altro un viaggio molto pesante, molto sofferto anche per noi lettori, ecco. Quindi è un nì, però comunque tutto sommato mi stava piacendo. È un po' quello più cicciottello, diciamo. Quindi ci sta, ci sta. Quindi Nicolai tutta la vita, perché mi ha salvato praticamente un libro, anzi mi ha salvato dall'intera saga. E quindi mi è piaciuto tantissimo. Altra cosa che mi è piaciuta, appunto, anche in questo libro, sebbene non è che succeda granché, nel senso che comunque è più che altro di passaggio, tutte le cose che vengono narrate, sono narrate abbastanza bene. Vi ho detto anche il personaggio di Nicolai salva sempre la situazione. Adesso vi sto facendo un breve scorso di tutto quanto, per poi andare più e un po' più nel dettaglio, soprattutto per alcuni personaggi. Ecco il terzo, il terzo, le ultime pagine per me sono state deliranti. Deliranti nel senso che abbiamo saputo tante, tante cose, cose soffertissime soprattutto, e poi alla fine ho lasciato un pezzo di cuore. Ammetto. Ho lasciato un pezzo di cuore alla fine di Run and Rising. Non so come spiegarvelo. l'ultimo libro, soprattutto alcune parti, infatti le ho segnate. Sono state pazzesche. Avevo lacrime agli occhi, le palpitazioni, non mi posso nemmeno far immaginare come mi sentissi in quel momento. Quindi, sono stata per l'ultimo libro, direi, di leggerlo, ecco, per la scoperta finale e tutto quello che, proprio quel pezzo lì da leggere è mossuoso, ecco, mi piaciuto un sacco. Allora, cosa ne penso in determinati personaggi? Allora, Alina, personaggio che mi è piaciuto, sì, però, diciamo, anche un po' meno. Nel senso che ci sono state alcune scelte, alcune cose che non mi hanno fatto impazzire e dire, ah, vabbè, l'ha fatto bene, l'ha fatto bene, l'ha fatto bene, l'ha fatto bene. Certo, sbaciucchiarsi il Darkling, cioè, che non è poi un gravissimo spoiler, ci sa, cioè, l'avrei fatto anch'io ad occhi chiusi, quindi chissene. L'evoluzione del personaggio, invece, dal secondo al terzo volume mi è piaciuto un sacco. Perché? Perché si vede una maturazione nel personaggio, la presa di coscienza del suo potere e dell'anche voglia di averne anche di più, sotto questo punto di vista. però, senza perdere, comunque, un po' il senno. Quindi, mi è piaciuto, mi è piaciuto, mi è piaciuto tantissimo, proprio tanto, 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 come personaggio. All'inizio era un po' titubante, verso il secondo e il terzo libro mi è piaciuto un sacco come sviluppo, ecco. Mal, Mal, tutti quanti lo odiano, non so per quale motivo, lo reputano egoista, bruttissimo come personaggio e quant'altro. A mio parere è un personaggio, invece, che non è stato capito. Perché accettare, da un momento all'altro, che la sua migliore amica di infanzia, che ha sempre schifato, tra virgolette, insieme a lui Griscia, per quello che avevano, sia anche lei una Griscia, non è facile da digerire. Puoi essere anche innamorato al mille per mille, diciamo che non lo digerisci con estrema facilità. Quindi, di conseguenza, tutte le azioni che compie Mal, a mio parere, sono anche più che giustificate. Certo, a volte lo vorrei prendere a cazzotti, per carità, ci sta. Però, tutto sommato, è un personaggio che a me è piaciuto, e anche molto. È un personaggio cardine anche della storia. Quindi qua ci siamo dei friends su lover, però, anche se non stimo tantissimo per queste evoluzioni, diciamo di interessamento amoroso, ci sta. Ci sta, perché ci sta. Tutta quanta la storia è incentrata su di loro, tutta quanta la storia, comunque sia loro che si trovano, che si perdono, che si ritrovano. Ci sta. E quindi Mal ha provato. Altro personaggio che mi è piaciuto un sacco, vabbè, Nicolai. Vabbè, Nicolai poi lo troviamo anche nel Regno Corrotto, anche se per poco, però fantastico. Cioè, io lo amo come personaggio. Anzi, ha avuto anche un ruolo abbastanza importante. Ci sono state alcune scene dove si parlava di Nicolai, e dove c'era Nicolai che, a mio parere, veramente bellissime. Sono state descritte da Dio, quindi tanta tanta roba. E come personaggio, comunque sia, a prescindere, mi piace, mi piace tantissimo. Come è un po' un Dottor Jekyll e Mr. Hyde, insomma. Da una parte è il futuro re di Rafka, e dall'altra invece è il corzaro della nave, ecco. E quindi c'è questa ambivalenza, questa cosa che mi piace un sacco. Mi piace davvero, davvero tanto. E anzi, quando è che stavo iniziando a leggere il libro, e c'erano alcune parti dove iniziavano a farsi presente questo personaggio qui un po' strambo, io avevo già capito che fosse Nicolai. Perché già me lo sentivo nel cuore che fosse lui. Perché bene o male, ormai la trilogia è uscita da un sacco di tempo. Quindi gli spoiler ci incapi ogni giorno, praticamente sui social. Però, appunto, quando mi sono ritrovata a leggerlo, sapevo già che fosse lui, anche se effettivamente non mi ero spoilerata il punto in cui appariva il libro e quant'altro. Quindi, tutto sommato, ero anche un po' titubante, però si capisce che è lui. Andiamo avanti con altri personaggi che mi sono piaciuti. Quindi sì, vabbè, quelli di sfondo non ve li elenco, perché tanto comunque, togliendone alcuni che possono essere un po' più di spessore, ecco. Non mi hanno fatto impazzire, hanno avuto un ruolo fondamentale, però mi baserò principalmente su quelli un po' più primari, ecco. Quindi arriviamo al Darkling. Darkling è un personaggio complesso, ma a certi livelli, che non so nemmeno spiegarvelo. È un personaggio cupo, è un personaggio che ha carisma, che sa che comunque ha il suo fascino e ne approfitta. È un personaggio che comunque sì, avrà un'evoluzione pazzesca, è un personaggio che... Con i controcacchi. Cioè, fatemelo dire, è bellissimo. Come è stato scritto, il Darkling è un personaggio pazzesco, è un cattivo perfetto. Non c'è sé, non c'è niente. È quello. E fino ad arrivare all'ultimo momento, l'ultimo momento in cui, diciamo, non posso dirvelo, però c'è un'ultima parte di Run&Racing che vi farà ricredere su tutto. E a me è piaciuto un sacco. È piaciuto perché si è visto quello che volevamo vedere sin dall'inizio. Ecco. Lo so che è complessa questa parte, lo so che non vi ho fatto capire un emerito cacchio, però non posso svelarvi questa cosa perché sarebbe come distruggervi praticamente la lettura. Bene, detto questo, i personaggi, l'ambientazione, ve l'ho detta, che già è fantastico e quant'altro, parlo della serie TV. Quindi, serie TV che io ho visto prima di leggere il libro. Sarà stato un errore? Sarà stata una cosa giusta? Non lo so. Personalmente, quando ho iniziato a leggere il libro, ho fatto in modo che, come la serie TV, non l'avessimo letta, vista, scusate. Infatti, nella serie TV c'è uno spoiler grande quanto una casa, appa all'episodio numero 4, tipo, e io l'ho scoperto alla fine dell'ultimo libro. Quindi è una cosa che non era da prendere tanto alla leggera, invece è stata presa alla leggera. Quindi, già su questo ho un po' di dubbi. Però, se vista soltanto la serie TV a sé, senza voler leggere il libro, è un'ottima serie fantasy. Si vede che comunque sia il budget era ridotto, perché alcune scene sono fatte un po' con i piedi, però comunque merita, merita tanto. E anche l'incastro, comunque sia con Sedi Corvi, hanno cercato di ottimizzare, diciamo, i tempi e di incastrare il tutto, anche perché Sedi Corvi è più o meno qualche anno dopo quello che succede, la guerra in Tenebre Ossa. Quindi, di conseguenza, è una cosa totalmente differente, che incastrarla ce l'è voluto, a mio parere. Però, ci sta. Quindi, Darkling, per esempio, non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto perché l'hanno reso troppo umano. Lo so che era voluto da Ben Bars, per carità, tanto di cappello a Ben Bars, però ho fatto i cacchi tuoi la prossima volta. Perché era un personaggio così complesso, così articolato, che tu me l'hai reso un po' un fantoccio. Quindi a me questa cosa non è piaciuta tantissimo. Mi è piaciuto, cioè, se non avessi letto i libri, avrei fatto, non lo so, mi sarei innamorata di Darkling. Però, avendo letto quei libri, no. È un no, grande quanto una casa. Diciamo che non è proprio il personaggio, diciamo, che mi ero immaginata. Alina sì. Alina mi è piaciuto un sacco perché ha rappresentato quello che mi ero immaginata io nel libro, nel leggerlo. Quindi ci sta. Mal l'hanno, anche lui, un po' più, reso un po' più maleabile, ecco. Diciamo che gli hanno smussato un po' alcuni lati del carattere. Quindi ci potrebbe anche stare, niente da dire, insomma. L'hanno reso un po' più appetibile e più carino, ecco, da vedere. Nicolai non c'è, quindi possiamo dire niente. I Neji. I Neji, Kaz, Jasper, che sono praticamente i personaggi, i protagonisti di Sedi Corvi. Diciamo che, togliendo Kaz, tutti gli altri due erano azzeccatissimi. Però di questo poi ve ne parlerò. Quindi ci sarà la seconda parte di Cosa ne penso della serie TV, nella parte in cui parlerò di Sedi Corvi. Quindi, attivate la campanellina in modo tale da rimanere aggiornati e sapere quando pubblicherò la recensione di Sedi Corvi, in modo tale da poter continuare l'ascesa, diciamo, della serie TV. Però, tutto sommato, io vi consiglio di vederla, magari dopo aver letto i libri, almeno la trilogia e almeno il primo di Sedi Corvi, giusto in modo tale da non crearvi grandissimi spoiler. E niente, quindi consigliata. Anche con un po' di riserve, perché ovviamente dopo aver letto il libro ti girano un po' le scatole per determinate scelte, però ci sa. Quindi, detto questo, è finito anche di parlare un po' della serie TV, dove il cast e i personaggi che interpreteranno tutti i personaggi di Sedi Corvi ve ne parlerò la prossima volta. Diciamo che il video si conclude qui, e anche meno male, direte voi. E niente, quindi vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, vi ricordo di attivare sempre la campanellina e di lasciare un seguito al canale se vi è piaciuto il video e se vi va ovviamente di continuare a vedere le mie recensioni un po' sconclusionate, ecco. Quindi, detto ciò, alla prossima. Ciao!